Nella Pinacoteca di Parma si conserva un quadro del Tintoretto che raffigura il Purgatorio. Questa rappresentazione non regge più alla luce del Concilio Vaticano II. Bello la rappresentazione del grande pittore che raffigura una grande vallata e in questi ci sono i dirupi, i rovi e ci sono le anime che soffrono e che soffrono le pene dell'inferno, in modo particolare il fuoco. E questa rappresentazione quindi risente della mentalità del tempo in cui non si conoscevano tanti elementi che la Bibbia ci offre. Difatti il fondamento che abbiamo della Bibbia sul Purgatorio non parla tanto di fuoco, ma di responsabilità personale e della necessità di espiare i peccati anche se già perdonati. E quindi allora abbiamo Adamo, sebbene perdonato, deve guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Mosè, per la colpa perdonata, non potrà entrare nella terra promessa. Davide, sia pure perdonato per l'adulterio e l'omicidio, deve piangere la morte del figlio e la sofferenza del popolo. Se la responsabilità della colpa non viene scontata su questa terra, dovrà effettuarsi nell'altra vita. Nel 1922 ecco un episodio capitato a San Giovanni Rotondo nell'ampito della vita di Padre Pio. Nel 1922 nel fuoco comune, cioè il fuoco dove c'era il cammino e specialmente d'inverno i frati si mettevano intorno al fuoco per riscaldarsi, specialmente quando vi era il mattutino notturno si ritornava di notte a letto, ma prima di andare a letto si andava intorno al fuoco per riscaldarsi, altrimenti non si dormiva bene. Mentre stanno intorno a questo fuoco scende Padre Pio a riscaldarsi e trova quattro frati incappucciati in silenzio. E questa è una cosa molto strana, diceva Padre Pio, trovare dei frati vicino al fuoco che non borbottano. Bene, cerca di salutarle, se lo ha dato Gesù Cristo, nessuna risposta, da dove venite, chi siete, come vi chiamate, nessuna risposta. Padre Pio capisce e quindi di corsa sale sopra ad avvisare il superiore di quello che lui ha visto. E se questi frati erano entrati col suo permesso, insieme riscendono giù e non trovano nessuno intorno al fuoco. Quindi Padre Pio concluse che quei quattro frati facevano la penitenza purificatrice laddove avevano offeso il Signore e i confratelli con la mormorazione. Si dice a mormorare, sta tutto a cominciare e quindi il frato mormora contro il padre superiore, la suora contro la madre generale, il cittadino contro il sindaco. Sono peccatucci, diciamo, e speriamo che siano soltanto queste, ma è necessario la purificazione. Questa purificazione, mentre si è sempre pensato che avveniva solo col fuoco, e principalmente avviene con lo stato interiore di sofferenza, che è principalmente sentirsi lontano da Dio. In questo stato di sofferenza hanno la consolazione della Madonna e le anime, diciamo, del purgatorio, la consolazione della Madonna, di San Giuseppe, di tanti altri santi, ma non hanno la visione di Dio. Questa mancanza è il fuoco che tormenta il proprio cuore, non è il fuoco, diciamo, terreno. È questa sofferenza così enorme che brucia, purifica e santifica l'anima da poter essere tra le braccia del padre.